3, 2, 1... A Pigiano si svolta l'accensione ufficiale delle luminarie che di fatto dà il via alle iniziative previste per il periodo natalizio. Un appuntamento di convivialità che ha visto la cooperazione di tante anime messe insieme dall'amministrazione comunale, non solo per veicolare al meglio il turismo invernale, ma soprattutto con uno scopo importante di solidarietà. Perché l'incasso del percorso enogastronomico della serata è stato interamente devoluto alla Fondazione Ant per sostenere le attività di un centro d'eccellenza vigianese, l'Hospice Il Mandorlo. Tutto il ricavato, tutto l'incasso sarà devoluto proprio a loro. Insomma, stiamo cercando di fare squadra, da una parte per fare tanta solidarietà, ma dall'altra parte anche per fare festa, per valorizzare e per dare animazione alle nostre comunità. Questo filo rosso che unisce nel segno della solidarietà la nostra esperienza, che è un'esperienza di eccellenza dal punto di vista sanitario in primis e organizzativo, ma che è fatta appunto di tanto volontariato, di tanta cura, di tanta passione. Sentire questa comunità vicina, come abbiamo sentito questa sera, ci dà ancora più forza per andare avanti.